Nuove nomine per i sacerdoti della Dioce Sinissena. A partire dal 1 settembre, padre Marco Cosentino sarà l'arciprete parroco della Chiesa Madrice di Villa Alba e si occuperà anche di ACR, Giovanazione Cattolica e Unitalsi. Mentre il nuovo parroco a San Giuseppe Providenza sarà padre Angelo Spilla, nonché vicario giudiziale. Padre Giuseppe Anfuso, parroco del Redentore e Rettore di Sant'Antonio. A San Biaggio, padre Antonello Buonasera sarà vicario parrocchiale. Padre Comolo Deodatus sarà vicario parrocchiale al Sacro Cuore, mentre padre Enzo Spoto, cappellano dell'ospedale Sant'Elia e collaboratore a San Pietro. Padre Zinga Frenzis, vicario parrocchiale a San Paolo. A San Cataldo, padre Alessandro Giambra diventa arciprete parroco della Madrice, oltre che cappellano nel carcere minorile, mentre a suo posto a Santa Alberto Magna e Santa Maria di Nazareth arrivano padre Giuseppe Gioeli come vicario parrocchiale e padre Antonio Lapaglia come parroco. Padre Daniele Lombardo sarà il nuovo direttore della Pastorelle Giovanile e vicario parrocchiale dell'unità pastorale di Sommatino. A Santa Caterina Villarmosa, alla Madrice, padre Rosario Castiglione sarà l'arciprete parroco moderatore, con padre Massimo Guarino, che si occuperà anche dell'ufficio missionario, quale parroco in solidum. Il vicariato di Calascibetta sarà affidato al vicario foraneo, padre Giuseppe Di Rocco. Padre Pietro Genco sarà il cappellano delle suore mercedarie e collaboratore nella chiesa Cristore di Mussomeli, lì dove, alla Madrice, il parroco arciprete sarà padre Achille Lomanto. Stesso ruolo che ricoprirà, però, ad Acquaviva Platani, padre Vincenzo Valenza. Dal 1 luglio, invece, padre Salvatore Randazzo sarà il cappellano delle suore francescane a San Giuseppe a Serra di Falco. Queste le ultime decisioni del Vescovo della Dioce Sinissena, Monsignor Mario Russotto. Tra le motivazioni che hanno spinto a tali scelte, ci sono le necessità legate alla Costituzione del Tribunale Ecclesiastico Diocesano, il bisogno di effettuare delle sostituzioni per i raggiunti e anche superati i limiti di età dei sacerdoti, o ancora per venire incontro alle esigenze di alcuni di loro.